ciao ragazzi questo non è un'intervista è solo che ho comprato questo microfono nella mia mio momento di auto isolamento e volevo anche provarlo comunque secondo me così è troppo vicino però penso funzioni allora cosa cosa vorrei fare oggi vorrei parlarvi di un argomento a me abbastanza caro l'altro giorno mi aveva chiamato su facebook un ragazzo con il quale abbiamo parlato un po di pallavolo e giustamente lui mi diceva ma federico com'è che hai fatto a raggiungere i tuoi obiettivi o giocare in serie a non sei neanche altissimo quindi insomma qualcosa avresti dovuto avere per arrivare a questi livelli e quindi abbiamo disquisito riguardo l'altezza riguardo la forza riguardo la forza di volontà assolutamente e ricapitolando un po il discorso giustamente mi faceva notare federico tu sei 1 e 90 1 89 dai facciamo così in serie a ci sono soltanto fenomeni giocatori di due metri che tirano che toccano 360 tirano 200 allora tu che cazzo ci fai lì ed effettivamente è una domanda che mi pongo molto spesso che mi pongo molto spesso e quindi niente ci siamo fatti questa chiacchierata è soltanto fatto capire che se vuoi adesso nella pallavolo ma se vuoi accelere in qualcosa devi essere migliori degli altri in un fondamentale nel mio caso ero bravi e ci sono bravi in attacco abbastanza forte in ricezione difesa ma questo non c'entra nulla quello che voglio dire ragazzi e ragazzi divertitevi quando giocato a pallavolo vi dovete divertire cioè mi diverto anch'io che ho 30 anni e quando quando sbaglio intanto mi incazzo intanto dico federico fai cagare perché effettivamente così come avrete visto sicuramente nei video di dell'analisi marrettiana però quello che voglio dire ragazzi è non vivete con l'ansia di dover raggiungere per forza sul giocare in serie a ho detto cosa ti manca e fa mi manca non lo so penso che è difficile per me perché vengo da una realtà dove la pallavolo l'ho fermato subito e ho detto vedi che io vengo dalla sicilia tutto il bene che posso vedere la sicilia alla mia società ma come faceva la gente a vedermi e detto che probabilmente è un processo probabilmente anche tanto culo non lo so sarà poi il signore dio nostro a dirlo però quello che ho fatto capire di non mollare di credere in se stesso di farsi anche di essere un po autocritico con se stesso non pensare sempre dio io sono più forte perché questo perché quell'altro perché non vengo preso perché non sono con nazionale sono seghe queste ragazzi sono veramente seghe e l'altra cosa che che avevo detto è che la pallavolo ragazzi fondamentalmente un gioco per voi che siete giovani per me oltre essere un gioco è diventato anche un lavoro ma nel mio caso secondo me se all'inizio non l'avessi preso come un gioco probabilmente sarebbe diventato per me un lavoro perché tuttora io lo considero un gioco cioè io se devo stare in campo e perché mi devo divertire perché devo star bene perché ho voglia di combattere con i miei compagni non perché oddio questo mese mi devono pagare funziona così almeno nel mio caso non so se qualcun altro probabilmente sarà contrario a quello che dico in questo momento l'altra cosa che vorrei aggiungere è che cioè quando iniziato a giocare io io veramente lo facevo perché mi divertiva mi divertiva gioivo a stare con i compagni a buttare sangue con i compagni che non beccavano una palla però io ero lì a dire dai ragazzi la prossima palla andrà un po meglio cioè poverine avevo compagni che li mettevano lì soltanto per far numero e non ho mai detto sei scarso perché ragazzi non funziona neanche così cioè quando un ragazzino mi dice eh io gioco male perché ho il compagno che fa cagare cioè te ne darei tante che per darti un'altra ti dovrei andare a prendere a portopalo di menfi cioè uno non abbiate alibi questo è poco ma sicuro due fate in modo che quello che fate lo fate perché vi piace lo fate perché lo volete quando quando io ero più giovane e giocavo nel giovani di vivo attaccato alla mia parete della camera mentre studiavo avevo il calendario della prima squadra lo facevo perché dicevo perché ammiravo quei giocatori e probabilmente già a 16 anni avevo un'idea di che tipo di giocatore sarei voluto diventare e quindi quello là ti fa pensare ok avere degli idoli avere degli obiettivi ma quando avevo 16 anni il mio obiettivo non era voglio giocare in serie a quando avevo 16 anni 17 anni il mio obiettivo era devo fare il meglio possibile di quello in quello che sto facendo adesso ovvero cos'era under 16 oppure la serie c cioè il mio obiettivo era quello non era oddio voglio arrivare voglio essere attaccato al muro come un poster perché tutti mi debbano ricordare così no ma io non ho mai pensato così poi anche vero che le strade c'è la storia ci insegna che le strade sono diverse per tutti non hai detto che il mio percorso vada bene vada bene anche per te sta di fatto che io ti sto proponendo un'idea tu poi sei libero di sceglierla o meno e con questo ragazzi è quanto quindi spero soprattutto che i giovani d'oggi aprano gli occhi che i giovani d'oggi continuano a divertirsi come spero abbiano sempre fatto io non so ancora per quanti anni giocherò a pallavolo però fa sempre piacere trovarsi accanto dei ragazzini dei giovanili che vengono allenarsi con la prima squadra e vederli che come dire si stupiscono si stupiscono di essere lì ma è quello per loro deve essere soltanto un minimo trampolini c'è un piccolo passo per eventualmente arrivare a giocare in serie a e ragazzi non ho né una sfera quella di vetro dove posso né una pillola che prendetevi questa diventerà diventerete dei giocatori di serie a questo questo è poco ma sicuro comunque penso aver parlato anche abbastanza io potrei parlare a questo punto di cazzare tutta la sera perché tanto sono le due chi cazzo si addormenta adesso divertitevi ragazzi divertitevi fatelo per voi stessi grazie 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 grazie